No, l'ho fatta girare, che blocchi. Si, ma qua. Allora, la volendo. Questo qua però devi fare. Ma ci vengono che nasce. No, chi sta? Chi sta? No, chi sta? No, chi sta? Caract combine. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 di questo emendamento, che è, credo, un momento di sinergia tra il Consiglio Comunale e l'amministrazione attiva, in quanto questo emendamento, come l'è pensato, è un emendamento che è stato aggiustato e coluto insieme all'amministrazione, che dal certo punto di vista riesce a rassanerare se vogliamo dire così, gli animi, gli animi, gli animati, per poter portare una linea che abbiamo più volte trattato e mai portato a termine, proprio perché le difficoltà nell'esprimere il mondo erano dettate da una serie di conoscenze dovute all'esperienza di esserci per i segni e quando questo fatto naturalistico è applicato in una zona, in un canetto, in una zona che è stata parla, e conosciamo essere soggetti a questi fenomeni, è che quindi il Consiglio Comunale, qual è la difficoltà, è difficile dare un nuovo giudizio proprio per quello che è stato intorno a questa situazione. Questo emendamento ci convolta un po' perché ci saranno i fermi del 15 milio, ci saranno i fermi del 15 milio, i fermi del 15 milio, e che fa pesato, la votazione fa pesato, la votazione del 17 milio, ma non è dal punto di vista, se mi si consente della propria scelta, non siamo votati sinceramente, anche perché, E, avendo notato l'assessore Casio e l'architetto Nessio di Loro, sappiamo che su questa delibera ci sono dei fondi regionali, e, se non ricordo bene, abbiamo sottato il vero primo, che siamo sceso in particolare, che un'ultima possibilità di darvi farebbero perdere questa sicuridissima occasione, ma comunque l'occasione per la nostra società, per maniare un po' di grado, se scusi, il termine della realtà. Quindi è un'azienda che è un'occasione superale. Ecco perché non interviene come il Presidente assolutamente la propizione, anche perché è stata trattata la propizione del Presidente, ma mi sono informato tutto per fare l'intervento, per chiedere l'intervento e adottare la distrazione e il rivolto al Presidente. Grazie. 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 Quindi io credo che questo è un'eventamento che voi, i maggioranti, vi dovrete votare. Questo è un'eventamento che voi, i maggioranti, non si può proposire, e ovvio, vi dovremo votare, visto che lo sottotitato che ha la prestazione che abbiamo preso dentro. Anche, in una maniera tratta, che era giustata la cosa gravissima che stavano facendo. Anche i tecnici, e lo dicono i tecnici che hanno venuto. Non è meglio, ci dico, che già l'ufficio a Pelle Nero ha già svelito e non già all'assessorato del territorio ambiente, una revisione del pari, dove dice, quindi qua stanno per lassù, e questa amministrazione va, e non so perché lo fa, perché lo sta portando, non ho dovuto poter essere. Dico, portando la telemitazione, portando la telemitazione in aula, e non vanno a portare la proposta. con le maggioranti che poterete, perché noi ce la poterete, e le tengo che con le migliorare, ci dovranno a portare, quindi se lo poteranno i colleghi di maggioranza. Dovete dire che già gli uffici, anche io già, nella partita, hanno s'accomandato, che la proposta, messe messe, da questa mia stazione, non era la proposta che s'accomandava il territorio e l'incomandato, forse, s'accomandava qualche altra cosa. s'accomandava qualche altra cosa. E questo è il territorio che vivono, visto che erano delle vocali, io lo continuo, era appunto per lui, per inserirci in pesante. Dopo dei tempi, questi allenamenti, su questa proposta del territorio, che son i nostri disegni di mercato, io lo provo a risultare della parte del territorio, non è nemmeno che cosa. Il fatto che l'autorizzazione ci ha messo per fatto, sul fatto aver fatto compiuto, di Bocci. Guardate bene. Io mi posso fare con un po' sempre di risposta. Bocci, Bocci. Allora, fatti in tanto. No, mi riesca a prendere. Questo è un po' sempre che avete condiviso a mantenere, di Bocci. l'ha avversato a tutti e anche il Julino un'esplastanza l'ha avversato dell'omo un'esplastanza tutti i nomi Armi Forza a tutti no, è il compagnolo è il compagnolo ma qualcuno si deve venire si può andare a prendere e con i sangi non mi contano fammi dico che avrete di invitare a chi si deve vivere di vivere mi presentessi con una faccia quando andavamo a fare i nostri e io vi ho detto come vedo, e lui mi ha detto, questa proposizione è un'idea è nata che non voleva andare a fare, perché? L'ambilizzazione, si doveva farlo e in maniera omissiva non ha indicato l'interaia che dovevo restare già per me non c'è una domanda, non mi interessa sapere cosa ho fatto, ma sicuramente la faccio sicuramente lo stanno in sanzione, non ha messo la carta all'interno che mi invita a prendere la tua carta c'è la carta, dei danni c'è la carta, dei danni in alto, quanta carta, i danni che con la pronuncia del signor sono sempre con una mano che ci stanno guardando non sono modificati, lei ha la seconda per cui la Giuseppe Barbara, perché? la Giuseppe Barbara non rientra e il bagno la tratta, la giustizia, e quindi non deve essere vedendo io, mi ha detto perché abbiamo parlato poco, ma il problema non è, caro Presidente e sono andato a parlare, il problema non parlare, il problema non parlare, il problema non parlare il problema secondo me non parlare, perché parlando di molto può sbagliare la stessura in questo momento, invece questi problemi di ragionanza iniziano a costretto, io non ho parlato da qui, io inizio la loro produzione all'uscita, per dimostrare a queste altre stazioni che questi si capito che sono fatti in tutta la forza che fanno sbagliare la stessa noi iniziamo, quindi, invece di subire e parlare, invece di subire e subire a me a chi dobbia risultato che imparano sul cano, ovviamente decido caro Presidente, ecco, siamo andati, ci siamo andati, ci siamo andati, ci siamo andati per il loro grande salvo, ci siamo andati anche a ricerci per lì, per il loro il mutilato, come si sono andati a fare la sede, la stanza quotidiana, aiuta anche questo a mettere la complicità, ovviamente andremo, ovviamente andremo sul fatto del seno per il mercatino di Natalus che non ha una categoria giocica di prodotti difficili da Natalus, questo sarà un'altra cosa che quanto al quotidiano, ovviamente un mercato di una data e un mercato di una data e un mercato di una cosa che si vede nel discorso, ma lo sappiamo che con la sua mamma, se a lei viene in casa, non so tentate a saltare, perché è un problema, è solo del Dio, e solo del Dio, e siccome siamo ormai alla violata nazionale, non viene la sua cosa che non sentire, se non sull'acqua, se non prenderà la testata, 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 se non prenderà la test non so, non dire che si può a finire a zero tempo sarebbe bene se non ti parlano solo e se lei se non parlano solo che è meglio un po' il tetto che non parlava come due sei che sono meglio io presenti il po' presenti il po' presenti il po' presenti il po' non lo possiamo fare non lo possiamo fare stiamo piegando il tetto che presenti il po' e lei è vero e lei è vero e lei è vero e lei è vero la selezione la selezione grazie grazie grazie